Ciao a tutti ragazzi bentornati da Carmi Special Siamo con un video super richiesto perché l'argomento di punto di oggi me l'avete proposto in tantissime tantissime live Mi avete fatto sempre questa domanda a riguardo E a tal proposito vi consiglio comunque di seguirmi anche sui social, soprattutto su Instagram I link li trovate in descrizione Perché in questa settimana pubblicherò qualche video sulle fantaschede E appunto tramite anche le storie su Instagram vi chiederò qualche chicca L'ho già chiesta anche appunto nelle nostre live E potrete anche appunto suggerire qualche nome anche tramite appunto le storie su Instagram Quindi mi raccomando seguitemi anche sui social La prossima live dovrebbe essere comunque domani Vi avviserò sempre appunto sia tramite il canale Telegram che appunto anche tramite i social Detto questo, oggi di cosa parliamo? Siamo qui tra l'altro guardate con la maglia del canale Gran ritorno, grande stile, ho i capelli un po' tagliati in casa Ma lasciamo stare Per quanto riguarda l'argomento di oggi dicevamo L'asta del fantacalcio, l'asta di riparazione del fantacalcio Quindi argomento che interessa soprattutto per chi deve proseguire il fantacalcio In caso di ripresa anche del campionato E quindi tutti coloro che vogliono completare l'annata fantacalcistica Con le 12 giornate che mancano E una domanda appunto che mi avete fatto spesso è Ma è giusto fare un'asta di riparazione? Conviene farla? Quando? Perché? Come? Organizzarsi? Allora ragazzi Su questo argomento ci sono alcuni bivi da dover attraversare Da dover prendere E in base ad essi poi si potrà prendere una decisione a riguardo Il primo bivio importantissimo riguarda il calcio mercato reale Perché non è stata ancora ben delineata Diciamo la situazione riguardo i giocatori che sono in scadenza Che hanno ad esempio un prestito che finirà a giugno E quindi non è chiaro se quei giocatori effettivamente poi Andranno via dalla società in cui hanno militato in questa stagione 2019-2020 E non saranno quindi più a disposizione anche dei fantallenatori Per chi ad esempio è un giocatore in prestito Comunque già di proprietà di un'altra squadra Ad esempio nel caso di Kulusevski potrebbe esserci il caso in cui Il giocatore andrà alla Juventus ma non potrà giocare Quindi si allenera semplicemente Ma il fantallenatore non importa Mi interessa che quel giocatore sia a sua disposizione E quindi già questa situazione potrebbe compromettere molto il fantacalcio Quindi cerchiamo prima di capire bene questa situazione E potremmo a quel punto decidere Nel caso in cui ci siano effettivamente modifiche delle rose Delle squadre di Serie A E quindi i fantallenatori potrebbero incorrere in alcuni problemi Andare a fare un'assa di riparazione Quando appunto ci saranno queste scadenze In modo tale che i fantallenatori possono aggiustare un po' la propria rosa Sarebbe in quel caso opportuno Nel caso in cui invece vengano delineate diverse linee guida In modo tale da far concludere la stagione Con gli stessi giocatori per le squadre di Serie A A quel punto i fantallenatori possono decidere Di basarsi in base al proprio regolamento E qui appunto arriviamo ad un altro bivio Il bivio seguente è il punto del vostro regolamento Della vostra lega Avevate già deciso di fare un'asta di riparazione Magari verso aprile Quindi una piccola finestra di riparazione Allora è opportuno in quel caso Stabilire una nuova asta di riparazione O adesso prima della ripresa del campionato Oppure in base a quante giornate mancavano Per quella appunto asta di riparazione Potete decidere in maniera opportuna La data di quell'asta Nel caso in cui invece Per quanto riguarda gli altri fantallenatori Le altre leghe che non hanno deciso Una data O meglio Che dovevano mantenere le stesse rose Da febbraio fino alla fine del campionato Ecco che forse sarebbe più opportuno In quel caso mantenere le stesse rose Perché andarle a modificare Con un'asta di riparazione Potrebbe essere Diciamo potrebbe sbilanciare un po' le cose Andare a diciamo avrebbe anche meno importanza All'asta che avete fatto a febbraio Dove alcuni giocatori sono stati magari svingolati Perché infortunati Insomma potreste diciamo dare troppa poca importanza All'asta che avete fatto a febbraio Per la quale magari vi siete preparati benissimo Qualcuno aveva fatto una strategia apposita Insomma ok state attenti Quello che però vi consiglio Eventualmente di poter fare È guardare il vostro regolamento E capire se è un po' stringente Soprattutto vista questa situazione particolare Ricordiamo che le partite eventualmente Saranno giocate in giorni ravvicinati Ok quindi gli allenatori potrebbero fare molto turnover E mettere anche in difficoltà i fantallenatori In questo modo Quindi una cosa che potreste appunto fare È modificare il regolamento Ovviamente con votazione In modo tale che tutti i fantallenatori Possano esprimere la propria opinione Ed essere d'accordo su un cambiamento Vi suggerisco alcune possibilità Ne avevamo già parlato in live La possibilità ad esempio più interessante Forse è quella della panchina Cioè capire se effettivamente la vostra panchina È corta Magari appunto a 7 slot E poterla ad esempio allungare A un numero maggiore Ad esempio 10 giocatori Portarvi una panchina più lunga In modo tale da avere più giocatori Che vi possano coprire dal non fare appunto uno 0 L'altra possibilità è allungare O meglio aumentare il numero di cambi a disposizione Infatti molti utilizzano il limite a 3 sostituzioni Ecco aumentare il limite a 4 Vi permetterà di andare meno in difficoltà O 4 addirittura a 5 Alcuni ho sentito che vogliono modificare addirittura a 5 Comunque vi potrà permettere di schierare una formazione un po' più serenamente Cioè mettere magari più giocatori Che avranno dei ballottaggi E vi assicuro che Giocando d'estate con il caldo Ci sarà molto molto turno I giocatori si alterneranno Alcune volte saranno titolari alcuni Altre volte appunto altri Insomma non sarà facilissimo Schierare le formazioni Io ovviamente farò le classiche Diciamo i classici consigli di giornata In base anche al rendimento che avranno le squadre In questa sezione di campionato Cercherò di darvi consigli più utili possibili Però ovviamente saranno molto molto imprevedibili Le formazioni titolari E quindi il fan d'allenatore può andare in difficoltà Proprio per questo vi consiglio Eventualmente di controllare Se nel vostro regolamento c'è qualche regola un po' troppo stringente E di andarla appunto a modificare Vista la particolare situazione Ovviamente non è detto che queste modifiche Poi dovranno restare per i seguenti Fanta calcio Ma una cosa che potrà essere eventualmente utile E mettere delle clausole Per quanto riguarda il fanta calcio del futuro Cioè visto che si è creata questa paradossale situazione Con una quarantena Quindi con un campionato sospeso Ecco che nel regolamento del futuro Potremo inserire Intanto i capelli vanno come gli pare Inserire delle clausole In caso di fanta calcio Quindi di campionato interrotto Oltre che per la sospensione di partita Ma per quello ne avevamo già parlato diversi mesi fa Ma anche per un campionato sospeso Quindi prendere eventuali decisioni Già nel regolamento scritto In modo tale da potersi sempre Aggiornare ed essere anche preparati Da quel punto di vista Quindi io ovviamente voglio sapere la vostra Anche qui sotto nei commenti Siete più per un fanta calcio Con le stesse rose Quindi mantenere le stesse rose Che avevate fatto fino a febbraio E mantenerla appunto fino a fine campionato Modificando eventualmente il regolamento O lasciandola addirittura in maniera rigida Per come lo avevate Io ovviamente cercherò di basarmi In base al regolamento di quella lega Vi faccio un esempio Nella lega con i miei amici C'è un regolamento abbastanza elastico Ovvero la panchina La nostra panchina Che è abbastanza corta Comunque a sette slot Può volendo entrare tutta Abbiamo fatto una votazione Per modificarla Perché io diciamo non ero d'accordo Volevo inserire il limite di cambi Però comunque alla votazione È stata diciamo non è stata favorevole Comunque è rimasta quella regola Quindi può solo volendo Entrare tutti e sette i giocatori Capite bene che già Questa è una regola molto elastica Quindi è inutile andare a facilitare ancora Il regolamento È abbastanza elastico Ci permette già di inserire Una formazione con diversi ballottaggi E quindi non abbiamo Gran che timore di restare in dieci A parte il fatto che Ovviamente dovremmo avere Tanti giocatori titolari Di quelle squadre Comunque almeno in ballottaggio Perché comunque la panchina È sempre a sette Se io non vado a inserire Nei panchinari Che comunque possano prendere il voto In ogni caso è un reparto Per zero punti Ecco un'altra possibilità Che mi è venuta proprio così in mente Riguarda il cambio modulo Ecco noi ad esempio Non utilizziamo il cambio modulo E in questo caso Non lo andremo a inserire Perché come detto È abbastanza elastico Il fatto che possono entrare Tutti e sette I giocatori Ma nel vostro caso Magari nel vostro caso Avete diciamo Regole più stringenti E potreste adottare L'eventuale cambio modulo Che a me non piace mai Cioè io Sono più per un modulo fisso Ok A parte nel mantra Che ovviamente È più elastico Da quel punto di vista Ci sta In quel caso Anzi è proprio scritto nel regolamento La possibilità del cambio modulo Però invece in questa maniera Nel classic Ecco Potreste inserirlo Nel caso in cui Vogliate mantenere Almeno per quanto riguarda Il numero di cambi E la lunghezza della panchina Magari un po' più rigida E vorreste invece Inserire il cambio modulo Ovviamente ragazzi Questo aspetta a voi Parlatene con i vostri Fanta allenatori Nel caso in cui appunto Dobbiate continuare il fantacalcio Ma parlatene anche Per il fantacalcio del futuro Perché potrà Magari Mi auguro di no Riaccadere in una situazione simile Comunque Essere preparati anche A situazioni un po' paradossali È sempre Sempre utile Quindi Nel vostro nuovo regolamento Per la stagione 2020 2021 Cercate di compilarlo In maniera ancora più completa Mettendo delle clausole In più Delle situazioni particolari Che si possono creare Detto questo Lascio la parola a voi Qua sotto nei commenti Ditemi cosa ne pensate al riguardo Continuerete il fantacalcio Farete una stessa riparazione Era già prefissata Oppure la inserirete Oppure non la farete E modificherete il fantacalcio Lascio la parola a voi Qua sotto nei commenti Di Carmi Special è tutto Ci vediamo Come detto domani Probabilmente con un altro video E poi Eventualmente anche la live Intorno alle 19 Mi raccomando Attivate la campanella Per non perdere nulla Like come sempre E ci vediamo In un prossimo video O live Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi